Buon sabato santo a tutti gli amici di Padre Pio TV, a coloro che ci seguono anche sul nostro sito internet teleradiopadrepio.it. Oggi è il giorno del silenzio, il sabato santo è così. Quest'anno un silenzio che si fa ancora più forte in questo tempo davvero ferito da una grande emergenza sanitaria. Noi siamo collegati via Skype, lo ringraziamo di cuore per essere qui con noi, con Fra Emiliano Antenucci. Pace bene, ciao Fra Emiliano. Tu sei nel convento di Guardia Grele in Abruzzo e poi diremo ancora per poco perché appena finisce questa emergenza e ci auguriamo il prima possibile per poter tornare alla nostra quotidianità, ci sarà la dedicazione di un santuario dedicato alla Madonna del silenzio. Ecco, tu sei stato anche più volte ospite nei nostri studi, con te abbiamo parlato della Madonna del silenzio e oggi il silenzio si fa ancora più forte in questo sabato santo, un giorno in cui le chiese rimarranno vuote però il popolo di Dio ci sarà lo stesso, forse in maniera ancora più intensa. Sì, è un tempo di silenzio forzato, chiamiamolo così, ma il silenzio è anche riflessione e meditazione, quindi il silenzio è verità, però questo silenzio del sabato santo diventa un po' come l'aurora che apre poi all'alba della risurrezione del Signore e quindi è bello invocare non solo la Madonna del silenzio in questo giorno, ma anche come ha ripreso il grande cardinale Carlo Maria Martini, la Madonna del sabato santo perché il sabato santo non è un giorno inutile, è un giorno dopo la morte di Cristo e prima della risurrezione di Cristo dove il cielo e la terra e il cuore dell'uomo fa silenzio poi per accogliere l'esplosione della luce della risurrezione. È una giornata in cui, appunto come dicevo, per antonomasia si fa silenzio per poi ritrovarsi tutti quanti in chiesa a partecipare alla veglia pasquale e quindi l'esplosione della gioia, della felicità per la risurrezione di Cristo. Quest'anno le chiese rimarranno vuote perché appunto le celebrazioni saranno tutte a porte chiuse potremmo seguirle solamente online. Che significato attribuisci a questo fatto? Perché magari ci sono tante persone che sentono anche un po' la mancanza del fatto di non poter andare in chiesa di non poter essere presenti. Una cosa credo importante, nella vita le mancanze ci fanno scoprire le presenze cioè che voglio dire, forse questo tempo di sofferenza anche per noi sacerdoti celebrare con una chiesa vuota è difficile ma anche per un laico non ricevere la comunione questo tempo diciamo di assenza, di mancanza più che assenza perché Gesù c'è sempre fino alla fine del mondo questo tempo di mancanza forse ci fa apprezzare di più il valore delle chiese non come museo ma come presenza del mistero il valore dell'eucaristia il valore ecco dei sacerdoti anche è vero che siete una presenza importante nelle vite di tutti quanti i fedeli il silenzio, torniamo a parlare del silenzio c'è un'icona molto bella, un'immagine che è quella della Madonna con il dito indice davanti alla bocca che significato ha questa immagine di questa icona, questa Madonna che dice fai silenzio, rimani, fai silenzio in te stesso approfitta di questo tempo per riflettere ecco aiutaci a leggere un po' questa immagine, questa icona ma un pensiero di Pascal molto bello diceva che tutto il problema dell'infelicità dell'uomo consiste che non riesce a stare fermo mezz'ora in una stanza sembra un miracolo questo fatto che il mondo si è fermato ci dobbiamo fermare, questo tempo non è un tempo sprecato credo che sia un tempo di creatività un tempo per rilanciare anche la carità, l'apostolato, il lavoro e sia un tempo ecco, come dire, si è speso bene di riallacciare anche tutte le relazioni frammentate frantumate e spezzate che ci sono tra le persone quindi leggiamo la parte positiva ecco di questo silenzio non solo la parte negativa e la parte positiva è che il silenzio poi ci aiuti innanzitutto a pregare a riscoprire il santuario più importante del mondo e il meno vistato che il nostro cuore a riscoprire le relazioni umane anche tramite i mezzi di comunicazione e poi per riabbracciarci diversamente dopo e anche a fare una revisione di vita sulle cose importanti e le cose che non servono alla nostra vita dobbiamo distinguere tra l'essenziale e l'effimero come possiamo vivere questo momento? appunto come dicevi tu è un miracolo che il mondo si sia fermato ci siamo dovuti fermare proprio c'è stato imposto di fermarci dacci qualche indicazione anche per pregare tra le quali io sono un conturantuario per questo che poi Papa Bois ha pubblicato ma la prima indicazione è non aver paura cioè non farsi prendere anche da tutti questi messaggi apocalittici della Madonna, del castigo del mondo pure a Padre Pia hanno attribuito dei messaggi falsi quindi non aver paura cioè il mondo doveva finire nel medioevo e non è finito doveva finire con la peste nera e non è finito doveva finire il 21 dicembre 2012 secondo il calendario Mario ma ancora finisce ma il mondo non finisce adesso io credo che il mondo finisce quando smetti di pregare e di amare allora finisce il tuo mondo quindi innanzitutto non aver paura sono le parole dell'angele è una parola che ricorre nella Bibbia 365 volte poi a sfruttare questo tempo ad esempio nella preghiera nella lettura di qualche buon libro e anche a telefonando anche persone che da tanto tempo non risentiamo e anche a riscoprire anche il valore fondamentale della famiglia ecco questo è fondamentale infatti anche la bellezza di poter di potersi godere i figli la famiglia, i genitori le persone davvero che ci stanno a cuore poi ci sono questi mezzi di comunicazione che ci permettono anche di incontrare chi è lontano da noi a proposito di libri Fra Emiliano ne hai scritti parecchi ricordo che sei stato anche più volte ospite nei nostri studi per parlare dei tuoi libri uno in particolare vorrei sottolineare ricordare visto che oggi si parla di silenzio è un libro che è anche un invito un'esortazione a non sparlare degli altri questo momento può essere anche un modo per fare un momento ottimale per fare esercizio per impegnarci a non sparlare del prossimo Pochi giorni fa questo libro è uscito in versione book quindi si può trovare tranquillamente su internet costa pochissimo e poi credo che sia un modo ecco per non sparlare perché lo stare chiusi in casa lo stare in se stessi da una parte può creare pace questa solitudine abitata da Dio ma da un'altra parte ecco se non è gestita male diventiamo lamentosi diventiamo sparlatori diventiamo ci arrabbiamo come diventiamo come dei cani in gabbia invece ecco credo proprio usando la carità cristiana perché il Signore dice di non uccidere quindi di non sparlare quando noi parliamo male di un altro ecco sporchiamo l'immagine che c'è di bellezza che c'è nell'altro quindi è un momento per mordersi la lingua e aprire il cuore e aprire il cuore al Signore poi come ho detto prima un momento anche per riscoprire il valore fondamentale dell'eucaristia lo stesso padre Pio diceva che se le persone scoprono il valore di quello che avviene sull'altare e ci vorrebbero le forze dell'ordine i carabinieri per per tutta la folla che va in chiesa adesso è quasi attuale questo messaggio perché poi i carabinieri intervengono se ci sta qualche movimento intorno alle chiese però ecco riscopriamo il valore dell'eucaristia proprio quando ci manca e la gusteremo in maniera diversa riscopriamo anche il valore del sorriso dell'abbraccio dello stringerci la mano che sembrava un valore scontato allora veramente sarà Pasqua quando insieme agli amici potremmo prendere un caffè una pizza e stare distesi con ecco con un'aria che dopo la mancanza dopo la tempesta c'è questo arcobaleno di pace è il famoso arcobaleno dell'andrà tutto bene è stata questa oggi siamo a conclusione della settimana santa è stata una quaresima particolare nessuno avrebbe immaginato di viverla proprio in questo modo io vorrei fare Emiliano che tu rivolgessi un messaggio qualche parola di conforto a volte sappiamo non ci sono parole che possano colmare mancanze vuoti noi ci lamentiamo ecco di non poter vedere i nostri amici di non poter vedere il fidanzato o la fidanzata o i genitori che sono lontani però ci sono persone che purtroppo in questa emergenza mondiale hanno perso i propri genitori hanno perso delle persone care quindi vorrei chiederti un messaggio vorrei chiederti una parola di conforto per quanto le parole possano confortare ma io credo che gli opposti nella vita ci insegnano alle volte ecco anche la malattia ci insegna il valore della salute anche persino sorella morte come chiamava Francesco D'Assisi ci insegna il valore della vita credo che questo sia una grande lezione di vita abbiamo questa vita e la vita è un dono qualcuno ha scritto è di passaggio però ecco quando passiamo dobbiamo ancora più lasciare la luce quindi alle persone ecco che magari hanno avuto un defunto per colpa del coronavirus ecco dico questo cercate di vivere bene cioè trovate anche da questo momento di dolore di lutto ecco un motivo per dare senso per sognare e per rilanciare la vita perché ecco la vita è un dono è un dono grandissimo di Dio e quindi abbiamo poco tempo su questa terra per realizzare il sogno che Dio ha per ciascuno di noi quindi sento io credo che ognuno di noi nella vita abbia fatto un'esperienza di morte io penso una volta che ho fatto un incidente stradale mortale sono uscito vivo per miracolo è un'esperienza che da una parte ti riempie di confusione perché sono vivo sono morto sono tra il cielo e la terra ma da un'altra parte ti dà una grande chiarezza come una voce interiore che ti dice non morire sei prezioso hai una grande missione sulla terra datti da fare quindi questo è il messaggio che rivolgo un po' a tutti potrebbe anche essere magari ecco un messaggio un augurio per la Pasqua che si sta avvicinando ci separano ormai poche ore e posso chiederti come stai vivendo questo periodo ecco di isolamento di quarantena forzata come riempie le tue giornate che tu abbia molto da fare tra la scrittura e magari anche l'incontro virtuale con i fedeli molto bene perché allora innanzitutto pregavo da tanto tempo che cosa io posso fare di concreto sapete che per decreto legge e anche ecclesiale non si può uscire non si può avere contatto con nessuno invece ecco insieme a degli amici abbiamo creato una rete solidale si chiama Italia Si che di aiuto sia pane medicina psicologia e fede quindi mi occupo della parte della fede a rispondere a queste email e poi lo impiego molto nel telefonare avrò fatto non so centinaia di telefonate soprattutto a persone che da tanto tempo non risento e consolando anche chi sta male per vari motivi e poi nella lettura e nella scrittura quindi è un tempo profigo anche per me che di creatività per iniziare poi questa nuova avventura nell'aprire il santuario voluto dal santo padre alla vergine del silenzio ecco quindi diciamo ecco la dedicazione la consagrazione è stata rimandata ci auguriamo possa venire il prima possibile e speriamo di esserci sarà davvero una grande grande festa intanto ti ringraziamo di cuore fra Milano per essere stato con noi per averci regalato queste parole per averle condivise con i tanti amici che ci seguono attraverso Padre Pio TV pace e bene e pace e bene grazie davvero di cuore grazie